Rischiano il demanzionamento, la sospensione e il congelamento dello stipendio, ma i sanitari toscani Novax sono pronti a ricorrere al giudice civile e aprire un contenzioso altar. L'articolo 4 del decreto legge 44 barra 2021, valevole sino al 31 dicembre 2021, infatti sancisce l'obbligo di vaccinazione per tutti coloro che svolgano la loro attività in strutture sanitarie pubblico-private, nelle farmacie o parafarmacie e negli studi professionali. Intanto la Regione Toscana va avanti inviando le lettere a tutti i sanitari non vaccinati. Noi abbiamo mandato le lettere in cui in esecuzione della legge gli intimiamo la vaccinazione perché così che dice la legge nazionale io condivido la legge. Ai medici che faranno ricorso noi opporremo quelli che sono i principi in cui chiediamo e che sono sanciti dalla legge nazionale, ci comporteremo di conseguenza.